Now, signor Panzeri, due minuti, prego. Per mantenere gli impegni assunti, deve operare perché si realizzino compiutamente tre principali obiettivi. Quello di una più forte e maggiore integrazione tra la comunità albanese e quella serba, quella di una piena attuazione dello Stato di diritto, quella di un rafforzamento delle istituzioni democratiche kosovare. Del resto, queste sono le condizioni essenziali perché il Kosovo possa fare un passo più deciso per avvicinarsi al processo europeo. In questo quadro, l'Unione Europea deve essere molto esigente con se stessa, attraverso la presenza che essa ha in Kosovo e verso le autorità kosovare, perché va davanti il processo di democratizzazione del Paese e lo avvii sulla strada dell'integrazione europea. Bisogna essere consapevoli che ci sono ancora molte cose da fare per le quali l'Unione Europea deve svolgere un ruolo attivo, sulla base anche delle indicazioni che provengono dal Parlamento europeo. Ora, io penso che nel quadro di questo processo da noi ha auspicato e mi auguro che venga accolto questo appello da parte del Parlamento europeo e tutti i gruppi in qualche modo convergano, riveste certamente importanza un ruolo che credo sia quello del negoziato, che sia quello del dialogo, che sia quello dell'apertura di un rapporto sincero, io penso, tra Serbia e Kosovo, che si ponga un duplice scopo, quello di stabilizzare i rapporti fra i due Paesi e quello di predisporre l'intera Regione nel migliore dei modi alla prospettiva europea. E c'è da augurarsi che questo avvenga in tempi non troppo lontani. Questo è l'impegno che noi dobbiamo assumersi con la determinazione necessaria come Parlamento e come Unione europea. Grazie. Grazie, signor Panzeri. Now, Ielko Kacin for one minute. Onorevole Kacin per un minuto. Dear colleagues, Commissioner. Grazie. Cari colleghi, commissario, lunedì il collega Peter Miletic è stato vittima di un tentativo